La partita del campionato junior tra San Carlo Milano e il Sele Sao, Liberta Scalcetti. E' qua con Daniel che intervista il proprio compagno di squadra. Allora Lollo, come ne pensi di sta partita? Beh, è stata una partita molto combattuta, fra tutte e due squadre. Abbiamo iniziato molto bene con un sacco di gol all'inizio e quindi poi la partita è andata nei binari giusti e l'abbiamo controllata negli ultimi minuti. Ovviamente abbiamo preparato tutta la settimana la partita e siamo contenti del nostro successo. Grazie Daniel e grazie Lorenzo, ci vediamo nelle prossime partite. Ciao, con salur, ciao! Ed ora siamo con Lorenzo della Sele Sao che intervista il proprio compagno di squadra, Ivan. Allora Ivan, come ti è sembrata questa partita? E' stata una pessima partita per noi, infatti abbiamo iniziato nel peggiore dei modi. Siamo andati subito sotto e dopo non siamo più riusciti a rimontare. E niente, dobbiamo fare molto meglio nelle prossime per non uscire con le ossa rotte. Grazie. Un grazie ai ragazzi della Sele Sao, un appuntamento anche loro alle prossime partite. Ciao, ciao a te! Grazie a tutti! Grazie a tutti!